Grazie Simona, sì, il Fano ieri ha vinto per 4-1 a Teramo contro il San Nicolò, una bella vittoria dopo lo svantaggio iniziale. Abbiamo sì qualche episodio, tra l'altro un paio poco chiari, li andiamo a vedere alla Moviola. Il primo gol con Mozzoni, la terza sinistra che apre sulla sinistra, il tiro di Chiaccherelli, la respinta di Ginestra, ancora Chiaccherelli che va alla conclusione, libera la difesa granata e poi c'è il tiro dalla distanza di Stivaletta e la correzione di Bartolini, ex di turno, in posizione regolarissima, quindi gol regolare. Bartolini segna ma non esulta, quindi questo è un particolare che ci ha colpito e viene abbracciato dai compagni, ma l'ex Fano, capitano di tante battaglie in Granata, non esulta per rispetto ai suoi ex tifosi. Andiamo avanti con le immagini, c'è il 21esimo del secondo tempo, c'è questo braccio, questo gomito alzato, sempre di Bartolini su torta, il rosso diretto del direttore di Gale, il signor Parrella di Battipaglia. Anche qui le immagini sono poco chiare, si vede un gomito del attaccante ex Fano e Perugia che colpisce torta, che stramazza a terra, chiaramente non ce la sentiamo di dare giudizi definitivi. Bartolini esce in maniera tranquilla e arriviamo all'episodio con il gomito alzato e il rosso diretto di Parrella di Battipaglia, che ci sembra molto convinto nell'occasione e l'allontanamento dell'attaccante di Forlimpopoli. Scorriamo con le immagini, c'è questo episodio, altro episodio dubbio con Clemente che va giù colpito duro da Micolucci, il centrale difensivo del San Nicolò. Clemente va a terra con la palla che non era comunque a distanza di gioco, vedete Clemente che stramazza, è colpito alla testa, anche qui immagini, vedete qua è il momento che Micolucci con la palla che è in aria e quindi non è nemmeno a distanza di gioco, Micolucci, usiamo il condizionale, colpirebbe, anche qui resta da capire se volontariamente o meno, Clemente che naturalmente con il Fano in svantaggio, non ha nessun interesse a stramazzare la terra e perdere del tempo, quindi anche qui è una decisione che sarebbe da rivedere, ma alquanto dubbia, ultimo episodio, il gol, il quarto gol del Fano di Sartori, Sivilla è in posizione regolare e poi non partecipa all'azione, quindi Sartori è in posizione regolare, si invola su Paglupinetti che poi in qualche modo lo anticipa, Sartori però è capabile e mette a segno il quarto gol, quindi doppietta personale per lui, quinto gol per Sartori e Franca Vittorio del Fano, che quindi malamaldeggia anche a San Nicolò, peccato che la maceratese con un gol nel finale al 92esimo di D'Antoni e con Tommaso Marold, contrariamente a quanto aveva detto Magrini alla vigilia, messo in campo soltanto negli ultimi dieci minuti, batte la recanatese e a questo punto va a più sei dall'Alma Juventus-Fano. Domenica prossima c'è il derby, Fano-Vispesor, una partita che naturalmente non ha bisogno di presentazioni e la maceratese andrà a San Benedetto, campo sempre caldo e ostico, i giochi non sono ancora fatti. A te Simona!